La caccia al biglietto è già iniziata, tutti vogliono andare a Pescara per assistere alla finalissima contro il Siena che vale il ritorno in Serie B dopo 15 anni di castigo. La città abruzzese richiama alla mente l'emozionante ricordo dello spareggio salvezza vinto nel 1991 contro la Salernitana grazie ad una rete del compianto Gigi Marulla. La città è facile prevedere un afflusso record di supporter rosso-blu sugli spalti dell'Adriatico, incontenibili al termine del match vinto all'ultimo respiro contro il Sud Tirol, l'entusiasmo dei tifosi hanno invaso le strade della città per Corrie, caroselli di auto e bandiere. Come è stata questa partita? Stupendo, stupendo, fantastico, la voce non c'è! Questo è l'Ozio di Mundo, l'Ozio di Mundo! Soffriamo fino alla fine ma è stata meravigliosa. Andrà a Pescara? Sì, sì, certo, certo, è come non andare. Grande Cosenza, grande Cosenza! Corza Lupe! Corza Lupe! Alla grande, alla grande. Andrà a Pescara? Andiamo, andiamo, andiamo. Il finale è più bello, io ci speravo fino all'ultimo, stavo facendo un video, ho fatto quattro video, poi alla fine ho detto no, non lo faccio più e l'abbiamo segnato. E adesso andiamo a Pescara! Il finale così non ve lo aspettavate? No, no, assolutamente. Bavoloso, bavoloso, sì! Lupi, 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 lupi! Salvatore Bruno per la CNews24. Ce ne andiamo a Pescara!